Fere, perché mi hai portato in questo posto di notte? Corri, Steph! Perché, Fere? Corri! Ti conviene, inizia a correre e non fermarti mai, Steph! Corri! Cosa vuoi da me? Perché la maschera di Jason oggi? E ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki! Ed eccoci qua in un nuovissimo episodio di GTA, questa volta un po' particolare, perché è un nascondino, ma allo stesso tempo non lo è. Allora, spieghiamo subito. Siamo nel nostro amato labirinto di foglie, non ci veniamo da un sacco di mesi e abbiamo pensato a un'idea simpatica per divertirci in questo posto. Allora, uno deve scappare come sempre dentro al labirinto, l'altro lo deve cercare, ma con una particolarità, ovvero che sarà Jason, armato di macette. Per mettere un po' di ansia in più a questo labirinto, no? Non poca, non poca, Fere. E quindi, beh, mi sa che tocca a me iniziare, vero Fere? Sì, io sono già vestita, dai che fai, mi fai cambiare, quindi vai. Però, volevo pensare. Cosa vuoi pensare? Troviamo un obiettivo per chi scappa, per mettere un pochettino di peperoncino in più al tutto. Sei sicura? Ok, sì, 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 sì. Sei sicura, Stef? Sì, Fere. Fere, allora, non abbiamo ancora iniziato, stai calma. No, no, mi sto riscaldando, c'è freddo qui di notte. Lo so che quando hai la maschera di Jason ti esalti. No, ma anche normalmente non è la maschera, sono io, ho capito. Comunque, cosa deve fare chi scappa? Non lo so, Fere, non l'ho pensato. Pensaci allora. Dammi 30 secondi, pensa a qualcosa e poi ripartiamo, ok? C'è venuta un'idea fantastica, però ci abbiamo messo 20 minuti a procurarci ciò che ci serviva, quindi è stato davvero esasperante. In ogni caso, cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato che chi deve sopravvivere deve durare 3 minuti dentro il labirinto e si può difendere con le molotov, però c'è un però. Non le puoi tirare addosso a Jason, le puoi tirare soltanto per terra tra te e Jason per difendere quella zona. Jason potrà decidere se camminare sul fuoco e tentarsi la fortuna o se cercare un'altra strada. Quindi non si può tirare addosso, soltanto per terra e niente. Secondo me siamo pronti. Io nel frattempo ho anche comprato un'ascia perché mi sono arrabbiata, quindi sto pensando dei modi per farti il più male possibile, Steph. Perché mi ha fatto perdere un sacco di tempo per queste molotov. Vai! Dammi un attimino, mi nascondo, faccio partire il timer e si parte. Tiro un zonare, vai, 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 vai. Allora, secondo me qui è un buon posto. 3, 2, 1, via! 3 minuti, sono partiti Fede, forza, 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 forza. Eh, abbastanza, sì, sì, sì. Perché ci hai messo pochissimo a nasconderti, mio caro Steph. Quindi vuol dire che sei qui in zona, non sei andato molto lontano, mi sto già perdendo. Paglia! Ti prego non morire, Steph! Adesso ho preso le foglie, aspetta, arrivo. Ok, mi sono già incastrato, non è possibile, devo scavaccare qui. No, Steph, vieni qua! E poi riuscendo qua? Vieni, Steph, vieni qua. Guardalo. Ecco qua. Brucia! Ah, io sto bruciando! Io ho passato verso il fuoco, non me ne frega nulla! Non me ne frega nulla! È stato bellissimo. Penso di morirci, sto ancora bruciando e sono morta fuori io. Steph, il magnifico ha fatto un barbecue con te. Grazie, Steph. Ne erai fiera di esserti buttata sul fuoco? Sì. Vabbè, ho perso in 30 secondi, complimenti. Adesso tocca a me, adesso tocca a me. Guardate quanto son bello in versione Jason. Fere, ti sei nascosta? Abbastanza. Ok, ok, ho avviato adesso il timer. Andiamo, 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 andiamo. A caccia, guarda. Mi metto addirittura in prima persona. Guarda. Fere, io avrei ansia al posto tuo, te lo dico. Però ti voglio cercare, voglio sfilare la sorte. No, non ci provare. Non voglio stare nascosta. Che poi forse stanno in movimento e è meno probabile che ti trovo. Anche secondo me. Perché potrebbe formarsi la questione giragirotondo, casca al mondo. Ecco, sei qua, stai zizzo. Casca al macete. Ma sei già andata? Che pera, il personaggio. Però qui, aspettami, dovevi uccidere a macete, non a calci nel di dietro. Perché mi hai dato un calcio nel di dietro, Steph. Questo non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto la parte. Teoricamente fa meno danno il calcio del macete. Quindi è valido. Ma non mi piace morire in questo modo. Bisogna morire comunque in modi decorosi, Steph. Mi hai un po' deluso, Fere. Tu mi hai deluso. No, no, sì. Io pensavo, dai, adesso fa la pro, mi tira un sacco di molotov, dura un sacco di tempo. E invece è durata mezzo secondo. C'è una mezza cartuccia. Parti pure, Fere, parti pure. Allora, io ho pensato ad un piano per fregarti. Quindi adesso con Solini vi faccio vedere la mia idea. Guardate. Secondo me, ok. Avete capito? Cosa stai combinando? Perfetto, perfetto. Niente, Fere, niente, niente, niente. Su, quanto ci metti a trovarmi? Ti stai mimetizzando? No. Oddio, mi è sceso un colpo. C'era un turista con una mappa, mi sembravi te, e mi ha fatto scendere un colpo. E quella è la mia tattica. Lo stavo addirittura per uccidere, stai come per istinto. Guarda che per arriva la pulizia, passano i tre minuti e Steph si vince la partita. Sono già passati i 35 secondi, cioè più di quanto sono durato prima. Sì, sì, assolutamente. Il che è in tutto dire. Mi ha visto. Lo sapevo che ti volevi. Ma scusa! Non si possono tirare addosso, Steph. Non si possono tirare addosso. Ok? Ok? Non funziona questo mio piano, non funziona. E muoio pure io. E muore pure lei. E muoio pure io. Mi sto riscaldando con il mio bel macete, Fere. Stai attenta. Stai attenta perché sono carico. Dimmi pure quando posso partire. Vai, 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 vai. Posso? Sì. Ok. Avviamo questo timer, avviamo questo timer. Guardate, adesso la trovo in 20 secondi. Faccio così. Poi vado... Ma perché sei partito dalla parte opposta, Steph? Questo non vale. Fere, dove scappi? Dov'è, 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 dov'è? E' qui? Fere? Fere? Ciao! No, l'ho mancata! Mi sta bruciando! Mi sta bruciando! Stavolta non mi acchiaffi, Steph. Vieni qui. Eh no, mi è mancato, bella. Mi è mancato. Ai, ti sei bruciata anche tu! A ti sembra che mi devo dare poco... E' difficile tirarsene nei piedi, è molto difficile, Steph. Per provare a bilanciare un pochettino di più la partita, abbiamo pensato. Facciamo che quello che deve sopravvivere mette tre mine di prossimità in dei punti casuali del labirinto, in modo tale che Jason non può più correre totalmente a caso e deve stare attento a dove si muove. Quindi, aggiungo pure il fatto che dobbiamo per forza giocarlo in prima persona. Ok? Addirittura! Eh sì, perché così è più facile vedere le mine di prossimità, ma è anche più difficile vedere l'altro. Ok? Vediamo un po'. Io non è che gli ho messi proprio in punti casuali, Steph. Sono più o meno dove sono io, cioè ti ho tappato tutti. Ma così non vale, Fede, quella è un'altra tattica. Eh vabbè, scusa. Dovevi metterli in punti a caso? Tu mi hai detto, metti le mine. Eh no, perché così se ti sento esplodere, io so che stai arrivando e me ne vado. Ma esplode e muoio, Fede, è diverso. Ma no, magari sopravvivi. Come? La tocchi, ma stai correndo e non riesci, è capito, a prenderti l'esplosione in pieno. Non lo so. Eh vabbè, è un tentativo. Poi nel caso non si conta questo round. Ok, allora, allora io la cerco, io la cerco. Vediamo se riusciamo a trovarla. Di qui non è. E in prima persona è già tutto un po' più complicato, perché non puoi correre troppo. Eh sì, 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 sì. Eh, però ti trovo, eh. Ti trovo, ti trovo. È un esplodo. Ma scusa, non la senti, era da due ore che faceva bibi, 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 non la senti? Eh, pensavo fosse da fuori. Cosa pensavi fosse? Nella vita reale, Fede. Vabbè, Stef, vabbè. Fede, mi sembrava... Allora, togliere le altre, perché qua... Sembrava una sveglia. No, eh... Si esploda. Eh, vabbè, sì. Non mi aspettava che esplodessero così tanto... Così tanta aria. Vabbè, vabbè. Fede, sento squillare avunque e ho paura di muovermi io stesso. Mamma mia. Buona fortuna. Ti devo dire, Stef, in prima persona fa strapaura, anche perché hai tutta la vista offuscata ovviamente dalla maschera. E non perdere tempo. Eh, no, 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 mentre te lo dico sto già passeggiando, non ti preoccupare, però ho una paura incredibile. Devi ascoltare, eh. Devi ascoltare molto, perché altrimenti esplodi. No, il problema, Stef, ecco le... Aspetta, quelle una, però è che io non le copio. Le puoi... Ti do il permesso di spararle quando le vedi, se le vuoi eliminare, diciamo, dalla zona. No, 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 perché ho paura poi di morirci, quindi vado piano piano, cerco di farci... Così è stra difficile, però, Stef, è più bello. Però è più bello. Però è una figata, dovevamo pensarci fin da subito. Sì. Per ripieno, è un costume molto bello che non si noterà mai, cioè proprio... Di nuovo ti sei messo qualcosa di luminoso? No, no, questa volta mi mimetizzo, Fere. Proprio, cioè, io e le foglie del labirinto siamo una cosa sola. È un qualcosa di stra ridicolo, vero? No, 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 no. Oh, mamma mia, sento bibibì ovunque. Anche io, ma perché per imbombano dal me e da te? Si sentono ovunque, è tutto un bibibì bibì. Anche io ho paura di muovermi, te lo dico. Oh, mamma, dove vado? Io ho sempre paura che adesso, tipo, giro l'angolo ed esplodo, giro l'angolo ed esplodo. Aiuto, Stef. Aspetta, aspetta. Ciao, Stef, eccoti! Finalmente! Finalmente ti ho trovato! Fere, da prova, da prova, da prova, da prova! Allora, Stef, no, vieni qua, perché è impossibile prenderti... Chi è esploso? Io no! Chi è esploso? Per ora no, perlomeno. Fere! Adesso ero io. No, allora, colpirti in prima persona è davvero tosto, eh. E poi, ovviamente, se ti devi seguire, non posso fare attenzione alle fine. Così è più difficile, è divertente. Sì, sì, sì. Fere! Dove sei? Allora, il problema è che nella notte, con le molotov in mano, faccio un po' di luce. Quindi devo stare abbastanza attenta, capito? Perché se no mi trovi subito. Ma, secondo me, non le vedo fino a quando sono proprio attaccata a te e ti vedo a priori. No, lo so. Secondo me, puoi stare tranquillo. Vabbè, è abbastanza illuminato questo posto, eh. Dico il labirinto in generale. Lo so, lo so. Devo continuare a correre così. Mi era sembrato di averti vista, ma niente. Questo vicoletto, no. E in prima persona è un po' più difficile. Perché comunque ti perdi più facilmente. Però ti troverò, Fere. Ti troverò assolutamente qui. Non sei... Di qui. Fere. Fai ancora in tempo a scappare. Stai parlando da solo, Steph. Qua. Lo sapevo! Eh, non te ne vai da qui. Non te ne vai da qui. Ho detto, butta la molotov, scappa e mi incastri. Mi incastri nelle foglie. È cattivissimo. È cattivissimo. Eh, ma l'avevo capito fin da subito che eri in questi tre vicoletti qua. Guarda. Uno, due, tre vicoletti. Ah, erano tre, neanche li ho visti. Perché infatti? Ma vabbè, sono andata da un'altra parte e non li avevo visti che erano tre. Comunque io ho una tattica per secondo me vincere. Questo è il mio outfit per vincere, Fere. Guarda se ti piaccio. Sì, sì. Da dove te li si è tolti fuori tutti quei capiti nuovi? Tre, due, uno, via. Parti, 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 parti. Allora. I consolini potranno iniziare a vedere la mia tattica. Vediamo se capite, consolini. Vediamo se capite. Secondo me, in un labirinto non ha senso nascondersi. Perché alla fine, il labirinto, cioè prima o poi arrivi in ogni posto in un labirinto. Di conseguenza la mia nuova tattica è questa che sto facendo. E teoricamente potrebbe funzionare. Devo giusto capire come difendermi al meglio, perché secondo me posso riuscire a fare anche quello. Però per il resto così potrei durare parecchio. E sono già 30 secondi che duro, quindi è già la dimostrazione che un po' funziona. Una in base a come ti sei messo, dai, Steph. Non lo so, Fere, non lo so, non saprei. Tu stai giocando a camminare. Bella teoria. Sì, sì, sì. No, è così, non è una teoria. Non è una bellissima teoria, mi piace, però chissà se è vera. No, no, è così. Stai giocando a muoverti e quindi non ti troverò perché tu continui a muoverti. Un minuto e quindici, sta funzionando e ti do conferma che quello che hai capito è reale. Io sto correndo in giro, sfruttando il fatto che io posso stare in terza persona. Lasciami in pace. Cavolo, mi sto incastrando a tutte le parti. Dove sei andato qua, secondo me? Ok, perché in terza persona è più facile correre dentro il labirinto. Quindi ho il vantaggio. Fere, mi sei dietro? Non lo so, ti ho perso. Davvero? Semplicemente perché qua in prima persona è davvero difficile correre. Avevo ragione, allora. Ti incastrino in ogni angolo. Allora avevo ragione. Stai sfruttando una mia debolezza. 1,50. Manca ancora un minuto e dieci. Manca ancora un minuto e dieci, non so più dove andare, però. Aiuto. Ok, 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 continua a correre, continua a correre. Fere, hai un minuto per trovarmi? Mi vuoi davvero lasciare la mia prima vittoria? E che ti devo dire, se non ti trovo, non ti trovo, non è che ci posso fare molto. 35 secondi per te, Fere, Tina. No, non ce la farò mai. Allora, teoricamente, se io l'ho vista correre lì, se faccio così, non mi hai visto? Dove? Ok, allora mi sto allontanando da te, permetta. In terza persona ovviamente, cioè in prima persona, posso vedere solo di fronte a me. Se tu mi passi dietro, io non ti vedo, è ovvio. Già, allora mancano 15 secondi, ci siamo quasi, ci siamo quasi, è quasi fatta, è quasi fatta per te. Ma non ti trovo. Ce la posso fare, posso finalmente riuscire a vincere un game. Allora, 5, 4, 3, da qui. Adesso sai cosa faccio, aspetta. Che ovviamente qui ci vuole una bella vendetta per aver sfruttato la debolezza di Jason qui. Dove sei? Non lo so, Fere. Dove sei? Non lo so. Allora, io ti aspetto, ti aspetto da qualche parte, perché prima o poi devi uscire. Prima o poi, non è che starei per sempre dentro questo labirinto. Però posso cambiare il mio vestito ed essere impossibile da riconoscere. Aspetta, vediamo un pochettino. No, no, ti riconosco. Come? Dove sei, Steph? Dove sei? Non capirai chi sono. Dove sei? Non potrei capirlo. Senti, Steph! Che cos'era? Questo è quello che ti capiterà appena uscirai. Ok, fammi risentire. Non senti. Che cos'è secondo te? Un lanciamissili? Esatto. Ok. Il missile ti va proprio in faccia, è dritto. Esplodi, Steph, esplodi. Non ti sei accorta di nulla? Dai, mi sei finito. Ma nemmeno, sono avuto tirato. Ti vedo, ti vedo. Non mi potevi fregare. Adesso siamo pari, a posto. A posto. Bene, grazie, grazie, grazie. Scenti un like. Questa è la prima volta che vi ho avuto il nostro video. Potete considerare il video e iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, e alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.